Musica Hanno rimosso le scogliere ma mancano quelle nuove l'appello di Michele Tanzi che chiede al Comune di mettere in sicurezza il prima possibile le spiagge di Metauriglia Credito agli artigiani, a Fano il convegno di confartigianato sulle nuove opportunità per la crescita e lo sviluppo delle piccole imprese per l'assessore Mirko Carloni le banche devono essere meno severe su garanzie e pressidi Porto Futuro a Sassonia di Fano prendono vita i murales dedicati alla marineria nuovo marciapiede e arredi per salvaguardare lo spazio adiacente ai capannù Da Marino Bartoletti a Teoteocoli a Umberto Galimberti in Comune di Mondolfo lancia la rassegna come un libro all'aperto otto appuntamenti con autori di spicco del panorama italiano il 25 giugno la cittadinanza onoraria il cantautore Francesco Buccini che presenterà il suo ultimo libro Tra poco dopo il telegiornale torna in diretta primo cittadino ospite il sindaco di Cartoceto Enrico Rossi Buonasera e benvenuti a questa nuova edizione di Occhio alla Notizia apriamo il telegiornale con la segnalazione che ci è arrivata da Metauriglia dove il portavoce di un nuovo covitato chiede di mettere in sicurezza le spiagge infatti dopo la rimozione delle scogliere non sono seguiti i lavori per quelle nuove da qui l'appello al Comune di intervenire il prima possibile sentite Scogliere rimosse sulla costa prima ancora di aver terminato quelle nuove previste più a largo lo denuncia Michele Tanzi portavoce di un comitato costituito di recente con lo scopo di collaborare con il Comune per assicurare uno sviluppo dei lavori in corso nel rispetto dell'interesse dell'intera comunità nei mesi scorsi Tanzi ha fatto un accesso agli atti ha visionato il progetto e ha segnalato all'amministrazione alcune criticità ma anche delle proposte programmatiche del cantiere dopo una riunione con il vice sindaco che si è svolta il 18 marzo purtroppo a Pasqua si è abbattuta una mareggiata che ha provocato danni alla spiaggia libera l'unica della zona è una bella spiaggia perché ha un fronte di circa 200 metri e che è il limite sud-est dell'intervento perché proprio qui sarà ultimato l'intervento è successo che nella settimana tra l'11 e il 15 di aprile solo quei giorni lì un motopontone ha cominciato a smontare la scogliera quella radente che proteggeva la spiaggia libera e ha cominciato a costituire il limite sud-est dell'intervento perché le rocce che vedete qua fuori rappresentano il limite dell'intervento qualcuno ha sfidato i dei dell'Olimpo e non ha fatto i conti che poteva arrivare qualche sorpresa e purtroppo il giorno di Pasqua è una mareggiata è passata da quel varco, da quella ferita per me è una ferita e ha portato via la spiaggia ecco, questa è una parte della spiaggia che non è una parte insignificante ma almeno il 30% Per mostrare quanto accaduto sono stati realizzati alcuni video con un drone l'auspicio di Tanzi e che si intervenga al più presto per completare l'opera ed evitare ulteriori danni alle spiagge d'altra parte molti bagnini e residenti si sono dichiarati entusiasti di questi lavori attesi da circa 40 anni Il mare può in qualunque momento creare dei problemi loro lo hanno vissuto e lo vivono tutti gli anni quando devono riaprire gli stabilimenti e durante l'inverno i danni li hanno tutti gli anni è così quello che loro temono è che da qui alla fine della stagione che sarà a settembre se non si interviene a proteggere in qualche modo questo limite il rischio che possa arrivare una disgraziata manifestazione meteo avversa c'è, nessuno lo può escludere e quindi sarebbe opportuno che l'amministrazione magari facesse un piccolo intervento in anticipo mette in protezione questo lato semplicemente realizzando il pennello di chiusura che è previsto dall'appalto e la scogliera numero uno che nascerà da quel mucchio di massi là fuori e raggiungerà la sequenza delle sei scogliere totali che arriva fino alla foccia del metauro questo è quello che deve succedere è auspicabile che prima possibile si possa mettere un po' di tranquillità un'anziana di 90 anni è stata trovata morta in casa questa mattina nel comune di San Costanzo la signora che abitava in Corso Matteotti è stata rinvenuta dalle forze dell'ordine intervenute sul posto dopo la segnalazione arrivata alla centrale operativa da parte di una vicina pare che il decesso sia avvenuto per cause naturali sul posto, i sanitari, i carabinieri e i vigili urbani a Fanno invece poco dopo le ore 13 tre minorenni sono stati investiti da una Volkswagen App mentre attraversavano le strisce pedonali in bicicletta è successo in via Soncino nel quartiere di Sant'Orso i tre che frequentano l'istituto Padalino stavano rientrando a casa purtroppo a causa dell'urto sono rimasti tutti feriti uno in modo più grave illesa invece la 23enne alla guida dell'auto sul posto due ambulanze e due pattuglie della polizia locale e adesso il convegno organizzato a Fanno da Confartigianato per parlare di accesso al credito e di supporti per lo sviluppo delle piccole imprese il credito, gli strumenti a disposizione delle micro e piccole imprese e il sostegno che possono dare le associazioni di categoria e le istituzioni sono stati questi gli argomenti al centro del convegno organizzato da Confartigianato Imprese di Ancone e Pesero Urbino nell'ambito della campagna di incontro e di confronto con il territorio che sta avvicinando l'associazione al suo sedicesimo congresso c'è un mondo che sta cambiando non sta cambiando solo come modo di dire sta cambiando veramente in maniera molto radicale il mondo del credito il tema del credito che vogliamo toccare stasera è uno dei punti deboli di questo tessuto imprenditoriale appunto del fatto di micro imprese e artigianato e noi questa sera vogliamo toccare questo tema con degli attori del territorio importanti quindi ci sono banche importanti c'è il nostro confidi unico che interviene questa sera c'è tutto il tema del PNRR su cui le piccole imprese rischiano di essere tagliate fuori ecco questo è il tema con cui stasera ci vogliamo confrontare per poter poi tirare delle conclusioni e cercare di dare delle dritte dare delle possibilità appunto al nostro sistema imprenditoriale per poter appunto investire in maniera adeguata e avere i giusti incentivi per quanto riguarda appunto gli investimenti che andrà a fare e poter essere finanziati con i nostri uffici che si occupano di credito e bandi ha poi spiegato il segretario Marco Pierpaoli diamo assistenza e supporto a centinaia di imprenditori le imprese vengono danni difficili segnati dalla pandemia è seguito l'aumento esponenziale dei prezzi energetici e delle materie prime e ora ha ricordato il segretario ad aggravare la situazione e il conflitto russo-ucraino il problema del credito si fa dunque ancora più pressante a sottolinearlo anche il vicepresidente della regione Mirko Carloni che ha parlato del rischio ormai evidente dell'inalzamento dei tassi e della recessione economica vedo che la difficoltà di rilascio del credito degli impieghi sta aumentando e sta aumentando anche perché le regole europee stanno ancora di più stanno cerchiando e chiedendo alle banche di avere un atteggiamento ancora più severo rispetto alle garanzie e ai prestiti questo secondo me è profondamente sbagliato ed è in controtendenza a quanto in questo momento invece ci sarebbe bisogno si valuta secondo me male un territorio come il nostro dove è fatto di micro impresa e dove la simmetria informativa tra l'imprenditore e l'intermediario finanziario una volta era gestito con la conoscenza del territorio mi pare che sempre di meno le banche interessi la conoscenza delle imprese e delle persone che stanno dietro all'impresa e sempre di più c'è una valutazione rigida e molto spesso legata soltanto alle garanzie che dà lo Stato su quei crediti questo secondo me irrigidisce troppo il circolante nella nostra regione e sinceramente sono molto preoccupato per questo l'iniziativa a spasso col sindaco prevista per questa sera a Pesaro è stata rinviata lunedì 30 maggio lo ha fatto sapere Matteo Ricci che purtroppo è risultato positivo al covid come ha scritto sui social per una settimana lavorerà normalmente da casa qualche sintomo lieve per il primo cittadino che ha già annunciato le date delle prossime iniziative organizzate per divulgare peserochecambia.it il portale ufficiale del Comune di Pesaro che si propone di fornire una visione immediata di facile consultazione e di orientamento alle informazioni relative alle opere pubbliche in fase di realizzazione finanziate e completate slitterà al 5 giugno invece la pedalata che era prevista per domenica 22 la partenza sarà in via dell'acquedotto alle ore 9 per un tour dei lavori finanziati tra i quartieri di Pesaro nell'ambito del progetto Porto Futuro che ha come scopo quello di riqualificare la zona del porto a Fano e i suoi edifici stanno prendendo forma i murales creati da giovani artisti e dedicati alla marineria fanese servizio di Filippo Pucci iniziano a prendere forma i murales nella zona del porto di Fano nei due capannoni antistanti al parcheggio del mercato all'ingrosso della pesca gli artisti al lavoro dalla scorsa settimana sono stati scelti dopo una preselezione di street artist una volta sagomato il disegno con l'utilizzo di un proiettore i ragazzi con l'ausilio delle bombolette spray hanno iniziato subito a decorare la prima parte della parete e ad oggi il primo risultato è questo il progetto che terminerà nell'arco di due settimane rientra nell'ambito di Porto Futuro ovvero un percorso di riappropriazione sociale che faleva su un processo di rigenerazione urbana e di riqualificazione degli edifici del porto mediante diverse pratiche artistiche contemporanee una iniziativa resa possibile grazie alle associazioni Carnage Collective e Umanesimo Artificiale in collaborazione con il Comune di Fano Regione Marche e Fondazione Carifano questo murales è la sintesi di una progettazione partecipata fatta con la città la domanda era che cosa è per voi il mare che cos'è per voi il porto e da questo si sono declinate delle suggestioni che poi sono diventate un vero e proprio diciamo va de mecum per cui gli artisti si sono poi candidati con dei bozzetti e questa diciamo che è l'opera che andremo a realizzare è un'opera che appunto parte dal nostro passato ed arriverà direttamente a quello che è il progetto di Porto Futuro è una valorizzazione dello spazio che inizia da qui ma poi anche col waterfront vedete bene che questo luogo troverà un prestigio assoluto e proprio per qualificare ancora di più quest'opera siamo intervenuti nel rifacimento del marciapiede e poiché questo spazio veniva occupato abusivamente dalle auto metteremo delle fioriere proprio perché deve essere salvaguardato quello è uno spazio di passeggio e quando le cose belle si fanno tutti noi abbiamo una responsabilità nel preservarle particolarità di questa opera è la realtà aumentata scaricando un'applicazione sul proprio cellulare il murale sprenderà forma con animazioni ed effetti speciali l'inaugurazione arricchita da diverse iniziative sarà in programma per il 28 e 29 maggio il 21 di maggio avremo ore 17 30 una camminata che passerà lungo tutti i moli del porto poi terminerà qui per ammirare parte di murale il 28 e 29 maggio nello specifico ci saranno eventi per i bambini e ovviamente street art sarà già rappresentata dai nostri artisti dei workshop sempre per i bambini ci saranno dell'entrettenimento musicale ci sarà anche food e beverage cioè si potrà bere e mangiare qualcosa e ci sarà poi della musica e quindi diciamo che festeggeremo con la città questo bellissimo evento per Fano le elezioni nelle scuole delle Marche inizieranno il 14 settembre e termineranno il 10 giugno 2023 lo prevede il calendario scolastico approvato questa mattina dalla giunta saranno 208 i giorni di lezione nella scuola primaria in quella secondaria di primo e secondo grado 228 per la scuola dell'infanzia abbiamo esteso il numero dei giorni ha spiegato l'assessore all'istruzione Giorgio Alatini per consentire di recuperare il tempo perso con la didattica a distanza e permetterà alle scuole di concludere il programma in serenità tutti i dettagli li troverete sul nostro sito occhioalanotizia.it invece su proposta dell'assessore alla difesa del territorio Stefano Guzzi la giunta regionale ha deliberato la convenzione con il comune di Pesaro per la rimozione del materiale ghiaioso accumulato alla foce del fiume Foglia che ostacola l'uscita in mare delle imbarcazioni il comune eseguirà i lavori e la regione riconoscerà l'80% dei cannoni riscossi dai concessionari per coprire le spese andiamo a Mondolfo quindi cambiamo di comune perché questa mattina è stata presentata la rassegna letteraria intitolata come un libro all'aperto durante l'evento oltre alla possibilità di incontrare gli autori verrà consegnata la cittadinanza onorare a Francesco Guccini cantautore e scrittore di successo internazionale grande attesa Mondolfo per la manifestazione culturale che proporrà diversi incontri con autori di spicco nel panorama italiano sta per arrivare come un libro all'aperto la rassegna letteraria diffusa nel territorio e nel tempo che il comune promuoverà a partire dal 16 giugno tra vie luoghi suggestivi e piazze di Mondolfo e Marotta l'iniziativa si snoda in una serie di appuntamenti gratuiti fino al prossimo 7 luglio un evento con grandi ospiti di grande richiamo quindi siamo molto soddisfatti per questo calendario di iniziative una delle manifestazioni più importanti della nostra stagione estiva molto attrattiva e siamo sicuri che porterà tante persone tanti visitatori sia Mondolfo che Marotta il tema di questa prima edizione è leggeri e pensanti la lettura dei libri come risorse preziose per nutrire il pensiero ma anche come momenti di svago dove rimanere leggeri ma non superficiali nel guardare e interpretare la realtà in modo consapevole partirà il 16 di giugno con tre serate 16, 17 e 18 giugno e due appuntamenti pomeridiani anche del venerdì pomeriggio il 17 e del sabato pomeriggio il 18 poi proseguirà il 25 giugno dove avremo la cittadinanza onoraria Francesco Cuccini e in quell'occasione ci sarà Sara Zambotti di Rai Radio 2 Caterpillar che presenterà il suo ultimo libro Tre Cene per poi proseguire il 6 e 7 luglio con due appuntamenti altrettanto importanti il 6 luglio avremo Teo Teocoli e Gabriella Mancini che presenteranno il loro ultimo libro in piazza dell'unificazione Amarotta e il 7 luglio in collaborazione con Non a Voce Sola ci sarà Umberto Galimberti qui a Mondolfo a Giardini della Rocca A collaborare con il Comune per questa prima edizione dell'evento è la libreria Mondadori di Fano Il poter conoscere e così sarà ad ogni evento gli autori poter dialogare con loro poter avere la loro firma su il libro credo che sia una cosa fondamentale o comunque una cosa molto importante per chi legge il libro perché così a modo di conoscere la persona che ha messo su carta le parole che ci hanno fatto desiderare e sognare e quindi ad ogni evento avrete la possibilità di fermarvi di acquistare il libro parlare con l'autore è una folla idea diventata orgoglio non solo della città ma dell'Italia intera così l'assessore del Comune di Pesaro Mila della Dora ha definito la nazionale italiana di palacanestro sorde il progetto nato dalle giornaliste pesaresi Beatrice Terenzi ed Elisabetta Ferri che dopo l'argento alle Olimpiadi sorde concluse ieri in Brasile oggi ha ottenuto il premio Enzo Berzot la sfida sociale un riconoscimento organizzato dall'Unione Sportiva Acli con il patrocinio della FIGC la giuria ha scelto il progetto pesarese e lo ha premiato per il suo forte impatto sociale la consegna è avvenuta questa mattina nel salone d'onore del CONI a Roma Questa era l'ultima notizia del nostro telegiornale subito dopo di noi le previsioni del tempo e poi torniamo in diretta con il sindaco di Cartoceto Enrico Rossi che arriverà nei nostri studi per una nuova puntata di Primo Cittadino dunque ci vediamo tra poco Grazie a tutti